Nelle strutture della società sportiva Smash avrà luce la terza edizione del torneo di padel Iopra. Sabato 9 e domenica 10 settembre appuntamento dunque con sport e solidarietà nei confronti di una realtà che a Pesaro opera da oltre 30 anni, garantendo assistenza ai malati di cancro e sostegno alle loro famiglie. Siamo felici che siamo sempre allineati con il padel che ci dà tutti gli anni. Da tre anni è stato creato e tre anni collabora con noi, anzi ci assiste perché abbiamo sempre più bisogno di fondi e quindi sono Michela Vitri e tutti i vari partecipanti, sono felici di dare allo Iopra che conoscono l'importanza di questa associazione. Assistiamo malati terminali e abbiamo veramente costi incredibili in un'associazione che assiste i pazienti 24 ore al giorno con tre infermieri, quattro medici, anche la psicologa e abbiamo quindi la fisioterapia con il dottor Radi, quindi i fondi purtroppo anche se tutti sono generosi e siamo convenzionati, però veramente ci occorre sempre tanto tanto aiuto. Quest'anno abbiamo deciso di fare un torneino a squadre in cui tutte le squadre saranno composte miste, due uomini e due donne o tre uomini e tre donne, ognuno come vuole, in modo tale che più gente c'è, più partite fa e più faranno scalpore queste cose. Ognuno farà la partita, il sabato ci saranno le fasi a gironi, poi dopo la domenica mattina ci saranno le finali con tutte le squadre che disputeranno la finale per arrivare lì, però la cosa importante è che sabato, domenica, avremo anche un campo dove ci saranno tutti i giochi goliardici, giochi a tema, padel, per fare il modo tale di accattivarsi un sacco di persone che vengono a vedere anche questa cosa, non solo il gioco del padel, per prendere più bacino di utenza possibile.